Ciao a tutti, sono Paolo Mantegazza, studente del terzo anno di Visual Design in Raffol Milano. Sono qui oggi per manifestare la mia gratitudine e la mia gioia per la conquista del terzo posto alla Portfolio United di Milano. Sono molto contento di aver preso parte a questo evento perché mi ha permesso di confrontarmi con studenti e direttori creativi, ottenendo nuovi spunti per migliorare ciò che già faccio. Il risultato ottenuto è un importante segnale che mi fa capire che sta andando nella giusta direzione. Per questo voglio ringraziare chi ha reso possibile questo evento, Raffol Milano, Accademia di Comunicazione, IED e The One Club for Creativity.